Si chiamava Frederick Chialo Milu e pensate che quest'uomo di 44 anni di età è morto in Kenya durante un rapporto sessuale, durante un rapporto intimo. La fidanzata pensate che lo ha letteralmente caricato nella sua automobile e poi è andata direttamente in ospitale. Purtroppo però per lui non c'era niente da fare, infatti la donna ha ammesso che gli eccolo addosso dopo più di un'ora di sesso. Sul caso è stata aperta in maniera immediata una inchiesta da parte della magistratura per l'appunto Kenyota, a quale per l'appunto diciamo che si è messa a cercare di capire barra comprendere quello che effettivamente parlando è successo barra è accaduto. Adesso diciamo che i dubbi da parte della magistratura sono abbastanza evidenti e diciamo così che quello che balza gli occhi è il fatto che di fatto o de fatto l'uomo in questione però ha perso la via. Iscrivetevi al canale, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate. Federico Chiaro in Milu, riposi in pace, Amen.